Secondo me dovrebbe essere visitato da molti ragazzi che non hanno memoria. Andare sul posto non si può, ricordare si deve. Annullata anche quest'anno dall'emergenza Covid e l'esperienza ventennale del treno della memoria, non poteva che essere il memoriale di Auschwitz realizzato agli esordi degli anni Ottanta da un gruppo di architetti, artisti e intellettuali italiani e strappato dalla nostra regione 30 anni dopo al degrado e allo smantellamento voluto in Polonia dai sopraggiunti governi revisionisti a costituire nel quartiere fiorentino di Gavinana il perno delle celebrazioni della giornata della memoria. Una giornata che istituita nel 2005 proprio nel giorno della liberazione dei sopravvissuti di Auschwitz intende a sua volta strappare all'oblio, al negazionismo, alla rinascita dell'intolleranza anti-ebraica ma non solo, la conoscenza da parte delle nuove generazioni della pagina più nera della recente storia europea. Episodi e fenomeni anche di questi giorni attestano l'urgenza di questa conoscenza sottolineata dal sindaco Nardella così come nel video messaggio del presidente Gianni a Roma per l'elezione del capo dello Stato, nelle manifestazioni tenute a Pisa, a Prato, a Viareggio, a Pitigliano al cimitero israelitico di Livorno, cui si riferiscono le nostre immagini, un po' in tutta la Toscana nel murale realizzato alla scuola primaria Anna Frank di Firenze dagli studenti nel liceo artistico di Porta Romana così come nelle parole del prefetto di Firenze, Valerio Valenti, che stigmatizzando il recente episodio di Venturina osserva come evidentemente non basti l'impegno di sensibilizzazione da parte di istituzioni, scuola e mass media. Il fatto che questi giovani si lasciano andare a queste assurdità è anche la testimonianza e il polso di una carenza di valori che albergano all'interno delle famiglie. Ma nei campi di concentramento non finirono solo gli ebrei, furono deportati e spesso sterminati comunisti, omosessuali, testimoni di Geova, Rom e Sinti, il cui genocidio si è voluto ricordare a Livorno portando gli alunni della scuola Alex Langer al palco Baden Powell nel quartiere Corea davanti alla pianta che ricorda i quattro bambini Rom morti ancora nel 2007 a Pian di Rota in un rugo doloso di matrice razzista. E poi ancora gli IMI, gli internati militari italiani, soldati che dopo l'armistizio preferirono al collaborazionismo il lavoro massacrante nei lager di Germania e Polonia, circa 600.000, di cui circa 50.000 morti per gli stenti. In prefettura Firenze consegnate le medaglie d'onore alla memoria a figli e nipoti di 5 di questi eroi silenziosi, tutti della provincia di Firenze. I più sopravvissero, ma in quali condizioni? Nonno materno, Guglielmo Petrucci, era stato richiamato a 48 anni e fu preso qui a Firenze concentrato alla fortezza ed è stato in tre campi di concentramento. Quando tornò era di 42 kg.